Domenica 25 marzo in provincia di Ancone è andato in scena un grande evento sportivo nazionale. Il Conero Golf Club di Sirolo ha infatti ospitato una tappa del circuito nazionale del Mercedes Trophy 2018. Oggi si è tenuta al Conero Golf una tappa del prestigioso circuito Mercedes, grazie a Mercedes che anche quest'anno ci ha voluto onorare della sua gara di circuito. Una bella giornata di golf, il tempo è stato clemente, 120 iscritti, forse anche di più, quindi un bel inizio per il calendario di gare. Questa manifestazione è testimonianza del profondo legame che c'è tra l'azienda motoristica tedesca e il grande golf. Oggi siamo qui al Conero Golf di Ancona dove siamo stati lieti di ospitare la tappa marchigiana del Mercedes-Benz Trophy. Abbiamo messo a disposizione dei golfisti presenti oggi quattro delle nostre vetture. Siamo stati molto contenti delle prove delle macchine e di come è andata tutta la giornata. Un'ottima occasione per l'incontro tra Mercedes e il mondo del golf. La competizione ha visto quattro classifiche finali. La prima categoria, Netto Stabelford, ha visto nei primi tre posti Filippo De Florio, Fabrizio Fracassi e Alessandro De Carolis. La classifica Lordo Stabelford è stata dominata da Alessandro De Carolis. La seconda categoria, Netto Stabelford, ha visto tre atleti al primo posto. Adolfo Recchioni, Graziano Bellomo e Luca Bonfigli. Infine, la terza categoria, Netto Stabelford, primo posto per Jacopo Della Mora, seconda posizione per Marco Panzavuota e terza piazza per Alessandro Amorati. Il golf fa bene, fa bene alla salute, fa bene allo spirito, quindi venite a provare il golf. Siamo qua che vi aspettiamo. Siamo qua che vi aspettiamo.